I burazzisti sono cose brutte, perché questo è un argomento serio da prendere, non è una domanda molto seria. I burazzisti non sono cose belle nel mondo dello sport, perché ci sono, ci sono ancora, ci ne sono, ma molto di meno, magari di prima, però è il problema che ci sono ancora. Infatti adesso ci sono tanti appelli fuori nel mondo dello sport, anche e soprattutto nel mondo dello sport, perché non ci siano più questi burazzisti, perché è un mondo dello sport fatto per tutti, per tutta la gente, e speriamo che non ci siano più. A me mi è già capitato, però non ci faccio caso, perché sono cose per toglierti la concentrazione in campo, però sono cose belle da fare, e ti invito alla gente di non farlo, anche con un appello. Comunque lo sport rimane per tutti, e sopportato, al contrario.